Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio, estratto dal capitolo 21. Giuseppe è posto come sigillo sul sigillo, come arcangelo sulle soglie del paradiso. Dice Gesù, che dice il libro della sapienza, cantando le lodi di essa? Nella sapienza è infatti lo spirito d'intelligenza, santo, unico, moltiplice e sottile. E continua enumerando nelle doti, terminando il periodo con le parole, che tutto può, tutto prevede, che comprende tutti gli spiriti, intelligente, puro, sottile. La sapienza penetra con la sua purezza, è vapore delle virtù di Dio, per questo nulla in lei vi è di impuro, immagine della bontà di Dio. Pur essendo unica, può tutto, immutabile con me, rinnovella ogni cosa, si comunica alle anime sante e forma gli amici di Dio e i profeti. Tu hai visto, come Giuseppe, non per cultura umana, ma per istruzioni soprannaturale, sappia leggere nel libro sigillato della Vergine, e come rasenti le profetiche verità col suo vedere, un mistero sovraumano, laddove gli altri vedano unicamente una grande virtù. Impregnato di questa sapienza, che è vapore delle virtù di Dio e certe emanazioni dell'Onnipotente, si dirige con spirito sicuro nel mare di questo mistero di grazia che è Maria. Si interna con lei, con spirituali contatti, in cui più che le labbra sono i due spiriti che si parlano, nel sacro silenzio delle anime, dove odi voci unicamente Dio, e le percepiscono coloro che a Dio sono grati, perché serve a lui fedeli e di lui pieni. La sapienza del giusto, che aumenta per l'unione e vicinanza con la tutta grazia, lo prepara a penetrare nei segreti più alti di Dio e a poterli tutelare e difendere, da insidie d'uomo e di demone. Del giusto fa un santo, del santo il custode della sposa e del figlio di Dio. Senza sollevare il sigillo di Dio, egli, il casto, che ora porta la sua castità di eroismo angelico, può leggere la parola di fuoco, scritta sul diamante virginale dal dito di Dio. E vi legge quello che la sua prudenza non dice, ma che è ben più grande di quello che lesse Mosè sulle tavole di pietra. E poiché, occhio profano, non sfiori il mistero, egli si pone sigillo sul sigillo, arcangelo di fuoco, sulla soglia del paradiso, entro il quale l'Eterno prende le sue delizie, passeggiando al rezzo della sera e parlando con quella che è il suo amore. Bosco di giglio in fiore, aura profumata di aromi, venticello di freschezza mattutina, vaga stella, delizia di Dio. La nuova Eva è lì, davanti a Lui. Non osso delle sue ossa, né carne della sua carne, ma compagna della sua vita. Arca viva di Dio che egli riceve in tutela e che a Dio egli deve rendere pura come l'ha ricevuta. Sposa a Dio era scritto in quel libro mistico delle Pagine Immacolate e quando il sospetto, nell'ora della prova, come uomo e come servo di Dio, soffrì come nessuno per il sospettato sacrilegio. Ma questa fu la prova futura Ora, in questo tempo di grazia, egli vede e mette sé al servizio più vero di Dio. Dopo verrà la bufena della prova, come per tutti i santi, per essere provati e resi guadiutori di Dio. Cosa si legge nel Levitico? Di ad Aronne e tuo fratello di non entrare in ogni tempo nel santuario che è dietro al vero diranzi al propiziotorio che copre l'arca, per non morire, che io apparirò nella nuvola sopra l'oracolo se prima non ha fatto queste cose, offrirà un vitello per il peccato e un montone in olocausto, indosserà la tunica di lino e con braghe di lino coprirà la sua nudità. E veramente Giuseppe entra quando Dio vuole e quanto Dio vuole nel santuario di Dio e offre sé e offrirà l'agnello olocausto per il peccato del mondo e le spiazioni di esso peccato. E questo fa vestito di lino e con mortificate le membra verili per abborirne il senso che una volta al principio dei tempi è tronfiato, ledendo il diritto di Dio sull'uomo e che ora sarà conculcato nel figlio della madre e nel padre putativo per tornare agli uomini della grazia e rendere a Dio il suo diritto sull'uomo. Fa questo con la sua castità perpetua. Non vi era Giuseppe sul Golgota? Vi pare non sia fra i corredentori? In verità vi dico che egli ne fu il primo e che è grande perciò gli occhi di Dio, grande per il sacrificio, la pazienza, la costanza e la fede. Quale fede più grande di questa che credette senza aver visto i miracoli del Messia? Sialò del mio padre putativo, esempio a voi di ciò che in voi più vi manca, purezza, fedeltà e perfetto amore. Al magnifico lettore del libro sigillato, istruito dalla sapienza a saper comprendere i misteri della grazia ed eletto a tutelare la salvezza del mondo contro le insidi di ogni nemico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.